buongiorno amiche buongiorno amici siamo qui alla madonna del ghisalmo per un raduno motociclistico come vedete le mie spalle ci sono tante moto che si sono riunite oggi la giornata è piovosa però comunque questo non ha fermato i motociclisti che si sono radunati per fare per trovarsi per fare festa quindi grande raduno ci sono molte moto veramente incredibile la quantità di moto pura essendo appunto una giornata di pioggia qui alle spalle vedete una ducati elaborata pole smart incredibile credibile numero di moto che c'è veramente tutto pieno il parcheggio qui sotto ma anche quello in alto quindi una grande festa la pioggia ripeto e che dirvi sempre bello stare qui insieme alle moto i motociclisti a ritrovarsi e comunque a godere della nostra passione grazie ciao